Allora, per stirare il pantalone fatto bene, bisogna far tornare le due cusciture interno gamba e esterno gamba. Piazza il pantalone, come tu ben sai, dandogli la forma del polpaccio, va bene, rientrare sotto qui il sedere, va bene, facci vedere come si stira un pantalone fatto bene. Vedete come c'è la forma del polpaccio, va bene, e qui l'incavo di sotto il sedere, e quindi deve rimanere proprio anatomicamente perfetto, come se fosse addosso, così si stira quando è sul tavolo da stiro. Il pantalone è difficile, ma non come la giacca, perché la giacca ci vuole altra maestria. Vedete? E così rimane perfetto il pantalone. Il pantalone è difficile, ma non come la giacca, perché la giacca ci vuole altra maestria. Il pantalone è difficile, ma non come la giacca, perché la giacca ci vuole altra maestria.